Una strategia di trading che ci permette di fare scalping su time frame di 5 minuti sia su Bitcoin che su tutte le altre criptovalute Una strategia molto molto facile che ha soltanto 3 condizioni da rispettare e che ti spiegherò in questo video Ciao amico criptomane, come sempre prima di iniziare lascia subito un like a questo video per supportarmi con l'algoritmo di YouTube per me molto molto importante e soprattutto iscriviti al canale e seguimi su tutti i social se ancora non l'hai fatto e poi voglio ricordarti cosa molto importante sto per lanciare il mio sito, una community privata totalmente gratuita nel quale metterò dei contenuti totalmente esclusivi e quindi se non vuoi perderteli vai subito in descrizione clicca sul link, iscriviti alla community e lascia la tua mail per non perderti i contenuti che arriveranno molto molto presto adesso però iniziamo Per utilizzare questa strategia, prima cosa molto importante aprimo bisogno di due elementi innanzitutto un exchange che ci permette di utilizzare i cosiddetti futures quindi potete andare anche short e personalmente sapete bene che io utilizzo Bitget se non avete un account potete tranquillamente farlo dal mio link che trovate in descrizione ovviamente il mio referral link oltre che supportare il canale avete uno sconto sulle fee di trading sia sul mercato futures che spot del 15% per sempre e poi ovviamente potete anche approfittare dei bonus di Bitget sapete che molti exchange ovviamente non permettono di fare l'utilizzo dei futures come ad esempio Binance in Italia non lo permette quindi personalmente utilizzo Bitget per tradare i futures e poi un'altra cosa importante avremo bisogno di un account su TradingView per chi non lo sapesse TradingView è questa piattaforma che ci permette appunto di vedere i grafici utilizzare tantissimi strumenti per poter studiare indicatori, oscillatori e quant'altro che ci serviranno appunto per utilizzare la nostra strategia attualmente c'è il Black Friday c'è lo sconto che durerà ancora circa quasi due giorni quindi io se fossi voi ne approfitterei perché la versione base è totalmente gratuita lo sapete ma la versione Pro attualmente ha uno sconto fino al 60% e più vi regala anche un mese gratuito quindi se l'abbonamento annuale riceverete un totale di 13 mesi in questo caso invece di 180 dollari il Pro lo pagherete soltanto 108 dollari per 13 mesi meno di 10 dollari al mese una offerta davvero davvero interessante e questa ci permette di mettere molti più indicatori sul grafico anche se per questa strategia basterà la versione gratuita adesso però vediamo di che cosa abbiamo bisogno nello specifico per ottimare questa strategia di quali indicatori innanzitutto essendo una strategia di scalping andiamo su Trading View selezioniamo la coppia di scambio a Bitcoin ma potete anche utilizzare e testarla su altre coppie di criptovalute ovviamente ragazzi prima di utilizzarla mi raccomando testatela io personalmente l'ho testata ho visto che è una strategia di scalping su time frame di 5 minuti che ha un win rate abbastanza decente ovviamente va testata per un lungo lunghissimo periodo di tempo per capire se effettivamente ha senso se qualcuno di voi è anche in grado di programmare con linguaggio magari con l'editor Pine di Trading View o con Easy Language ad esempio può tranquillamente fare un backtest di gran lunga durata con questa strategia perché è davvero facile da impostare adesso vi spiegherò come funziona gli indicatori che ci serviranno o meglio ci servirà un indicatore e un oscillatore sono sostanzialmente due andare in indicatori e selezionare EMA quindi media mobile esponenziale è questa qua che ho già inserito io l'ho messa di colore giallo voi potete metterla di qualsiasi colore potete cambiarlo in stile e il periodo che è l'input che dobbiamo cambiare perché di base uscirà 9 noi dobbiamo mettere 200 periodi e questa è la prima cosa vi comparirà questa media mobile esponenziale che ci servirà per stabilire quando dovremo entrare aprire la nostra posizione come prima condizione l'altro indicatore o meglio oscillatore che ci servirà è proprio il MACD quindi andiamo in indicatori cerchiamo MACD e andiamo a selezionare media mobile divergenza convergenza e ci uscirà questo oscillatore che ha due linee la blu e l'arancione l'arancione è una media mobile a 9 periodi mentre la linea blu è la linea proprio del MACD che ci darà il segnale e poi c'è questa sorta di histogramma che diventa verde quando comincia l'up trend vedete e diventa rosso quando comincia il downtrend e da questo indicatore ci verranno fornite due condizioni utili proprio per stabilire l'entrata della nostra strategia innanzitutto dobbiamo capire quando andare long e quando andare short personalmente per stabilire se entrare long e short preferisco seguire il trend essendo che ci troviamo in un bear market preferisco in questo momento aprire soltanto delle posizioni short è anche vero che essendo in un time frame di 5 minuti quindi molto molto piccolo probabilmente bisognerebbe vedere comunque il trend di breve periodo piuttosto che il trend di lungo lungo periodo però personalmente siccome ci troviamo in un bear market e quindi trend is your friend e ci favorirà sicuramente seguire il downtrend mentre viceversa in un uptrend favorirà sicuramente seguire l'uptrend preferisco fare in questo modo e le condizioni per entrare short la prima condizione per entrare short è avere il prezzo al di sotto dell'EMA 200 quindi in questo caso è valida l'opzione di entrare short solo se il prezzo si trova al di sotto dell'EMA 200 vedete in questo caso qua il prezzo è stato al di sopra quindi in questo caso non avevo preso mai in considerazione l'opzione di entrare quindi di aprire un trade se andiamo un po' indietro vedete in questa fase qua il prezzo è stato al di sotto dell'EMA 200 e quindi in questo caso sarei potuto entrare short a due condizioni specifiche le due condizioni sono sostanzialmente prese dal cosiddetto oscillatore MACD quindi una volta stabilito che il prezzo si trova al di sotto dell'EMA 200 come in tutto questo periodo possiamo andare a trovare le condizioni sotto per aprire una posizione la prima condizione è che le linee blu ed arancioni siano al di sopra della linea 0 del MACD la linea 0 ragazzi è questa linea che ovviamente sembra non essere segnata ma che divide appunto l'istogramma rosso dall'istogramma verde quindi divide il downtrend dall'up trend e quindi in questo caso vediamo che le due linee blu devono essere al di sopra quindi da qua a qua ovviamente anche se il prezzo si trova al di sotto non prendiamo in considerazione da questo punto in poi prendiamo in considerazione vedete perché il prezzo è al di sotto dell'EMA 200 e le due linee sono al di sopra della linea 0 sostanzialmente che sarebbe questa qua se non la riuscite a vedere potete anche segnarlo con una linea presa da trading view ovviamente andate a selezionarla sullo 0 precisa ed eccola qua che ce l'avrete prima condizione quindi c'è o meglio due condizioni prezzo sotto l'EMA 200 e linea blu ed arancione al di sopra ma per aprire la nostra posizione serve una terza condizione la terza condizione è quella di aspettare l'incrocio al ribasso della linea blu con la linea arancione come succede in questo caso specifico e quello sarà il nostro segnale di apertura del trade quindi condizione 1 prezzo sotto l'EMA 200 e qua ci siamo condizione 2 linea blu ed arancione al di sopra della linea 0 e anche ci siamo quindi che cosa facciamo aspettiamo che la linea blu vada ad incrociare la linea arancione e succede proprio in questo punto quindi andiamo a vedere sul grafico e questo sarà il nostro segnale di ingresso adesso che abbiamo aperto il nostro trade dobbiamo andare a mettere stop loss e take profit ovviamente in questo caso avremo una posizione short da aprire quindi adesso dobbiamo stabilire dove mettere il nostro stop loss e dove mettere il nostro take profit innanzitutto voglio ricordarvi una cosa importante questa strategia vale short perché in questo periodo abbiamo deciso di entrare short se la vogliamo utilizzare per entrare long bisogna fare la cosa inversa ovvero trovare il prezzo al di sopra dell'EMA200 e viceversa trovare le due linee al di sotto della linea 0 e aspettare sempre l'incrocio al rialzo quindi caso inverso prezzo sopra l'EMA200 come qua linee al di sotto della linea 0 e linea blu che incrocia al rialzo la linea arancione eventualmente per utilizzare questa strategia al contrario quindi è esattamente l'opposto di quello che abbiamo fatto adesso andiamo a stabilire il nostro stop loss io personalmente utilizzo l'ultimo swing prima ovviamente del prezzo d'ingresso in questo caso l'ultimo swing è qua un po' più alto ragazzi dello swing non vado a metterlo precisamente non si mette mai precisamente magari vedete utilizzo questa zona qua e vado a prendere essendo una strategia di scamping un rapporto di magari reward ratio rischio rendimento 1 a 1 e quindi vado ovviamente ad entrare con la mia posizione in questo caso e vediamo che cosa succede che subito dopo un po' di tempo vedete ovviamente nell'arco della giornata la mia posizione in questo caso è andata in profitto andiamo a trovare un'altra condizione prezzo al di sotto dell'EMA200 un po' prima del grafico le due linee al di sopra vedete della linea 0 troviamo un primo incrocio qua un altro incrocio qua andiamo ad esempio a vedere questo quindi ci troviamo al di sopra della linea 0 sul sul MACD le due linee sono al di sopra l'incrocio avviene qua il prezzo al di sotto quindi questo sarà il nostro prezzo d'ingresso e andiamo ovviamente ad aprire la nostra posizione anche in questo caso short andiamo a mettere il punto preciso swing high in questo caso ho aperto un altro eccolo qui swing high precedente a questo qua ragazzi vado a mettere sempre il rapporto 1 a 1 poi ovviamente questi parametri possono essere modificati in base ovviamente alla vostra strategia personalmente utilizzo 1 a 1 per testarla e poi ovviamente fate attenzione se utilizzate la leva perché è possibile anche utilizzare la leva vedete in questo caso anche l'operazione è andata a buon fine anche in quest'altro caso l'operazione poi va va a buon fine dovrebbe essere vediamo andiamo ad aprirne un'altra qui c'è l'incrocio vediamo vediamo che anche in quest'altro caso ragazzi con l'ingresso qua all'incrocio stop loss sullo swing high ho messo un po' più alto di questo swing high qua e anche in questo caso sarebbe andato con rischio 1 a 1 rendimento quasi anche un po' più giù sarebbe andato in profitto ovviamente qui abbiamo trovato dei casi in cui l'operazione è sempre andata in profitto ma vi assicuro che ragazzi molte 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 volte l'operazione vi andrà in stop loss non ha un win rate altissimo almeno per quello che ho testato io che non supera il tipo il 55% quindi ha un win rate discreto non altissimo anche perché è una strategia di scalping altrimenti sarebbe troppo bello può essere utilizzata anche su alti time frame ovviamente in quel caso il win rate si alza un po' ma trovate molte e molte meno operazioni da fare ad esempio su time frame di un'ora ovviamente possiamo utilizzare anche un rischio rendimento più alto e possiamo ad esempio ipotizziamo di entrare qui vediamo che troviamo tutte le condizioni prezzo al di sotto dell'EMA 200 linee al di sopra della linea 0 eccetera eccetera swing high è questo qua mettiamo lo stop loss e utilizziamo un rapporto rischio rendimento di U3 ipoteticamente quello che possiamo fare è ovviamente aspettare e vedere cosa fa il prezzo e decidere che quando ci dà ragione in questo caso vedete qui qua si va a prendere lo stop loss ma viene rigettato dall'EMA 200 e in questo caso il prezzo inizia a darci ragione quindi arriva qua non va a prendere il take profit e sembra ritornare indietro che cosa facciamo per abbassare il rischio andiamo a spostare lo stop loss a break even quindi ovvero al prezzo di ingresso e nel caso in cui il prezzo dovesse tornare indietro e andare al prezzo di ingresso ovviamente si chiuderà la posizione in pari non perdiamo niente e finisce la mentre come in questo caso se invece dovesse continuare a scendere va a prendere il nostro take profit e a chiudere la posizione in gran profitto questo serve ad abbassare il rischio se vogliamo utilizzare un rischio reward un po' più alto aumenta il profitto ma ovviamente diminuirà il numero di operazioni che andranno in profitto proprio perché molto più spesso il prezzo tenderà ovviamente a ritornare indietro e quindi a prendere il nostro stop loss che a quel punto sarà spostato a break even piuttosto che allo swing precedente ovviamente poi questa strategia può essere utilizzata in tantissimi modi su tantissimi time frame può essere appunto utilizzata con dei rischi di rendimento diverso da quello che vi ho fatto vedere io fate tutti i test del caso ovviamente prima di iniziare ad utilizzare questa strategia sulle varie coppie di criptovalute e se utilizzate la leva nei futures ragazzi fate molta molta attenzione perché rischiate di essere liquidati qui ci troviamo sul time frame piccolissimo 5 minuti ci sono vedete a volte delle candele che vanno subito a liquidare i prezzi c'è un'alta volatilità su questi time frame piccoli e ovviamente in questo caso abbiamo visto molti casi in cui l'ordine è andato in profitto ma ragazzi vi assicuro che in moltissimi altri casi prenderà il vostro stop loss quindi fate un bel back test testatela per un bel periodo e ricordate cosa importante non è una strategia definitiva che vi farà diventare ricchi che abbiamo trovato il trucco del successo e a posto è finita così ragazzi questi non sono assolutamente consigli finanziari sono delle semplici strategie di trading che vengono utilizzate conosciute e che se utilizzate in modo giusto possono in determinati periodi portare a fare dei profitti ovviamente non è una strategia che funziona sempre e per sempre e su tutte le criptovalute quindi adesso vi faccio un breve riassunto ma ragazzi prima di continuare dovete commentare il video e farmi capire se apprezzate questo genere di contenuti volete altre strategie se vi piace il trading e dovete assolutamente farmelo sapere lasciando like innanzitutto e commentando in tantissimi il video per me molto molto importante per capire se andare avanti così ricapitolando brevemente condizione 1 prezzo al di sotto dell'EMA200 se vogliamo utilizzare la strategia per aprire posizioni short mentre prezzo al di sopra dell'EMA200 se vogliamo aprire operazioni long e vogliamo utilizzarla in uptrend quindi possiamo anche andare a vedere il trend di breve periodo sempre orario se è un uptrend possiamo cercare di utilizzarla su operazioni long quando il prezzo è al di sopra dell'EMA200 in questo caso se il prezzo è al di sopra e vogliamo entrare long dobbiamo avere la condizione che le due linee devono essere al di sotto della linea 0 del MACD quindi come in questo caso vedete al di sotto di questa linea 0 mentre se vogliamo entrare long mentre se vogliamo entrare short scusate le due linee devono essere al di sopra della linea 0 come in questo caso quindi l'inverso prezzo sopra EMA200 linee sotto prezzo sotto EMA200 come in questo caso linee sopra e queste sono le condizioni per poter aprire l'operazione dobbiamo aspettare l'incrocio delle due linee quindi quando la blu incrocia al ribasso all'arancione dobbiamo entrare in questo caso short quando il prezzo è al di sotto quando invece la linea blu incrocia al di sopra all'arancione dobbiamo entrare long quando il prezzo è ovviamente al di sopra dell'EMA200 ok ragazzi spero di essere stato abbastanza chiaro se non avete capito qualcosa fatemelo sapere subito nei commenti e prima di andare ricordate di lasciare like iscrivervi al canale e seguirmi su tutti i social e soprattutto entrare nella community privata con contenuti esclusivi lasciando la mail nel form che trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video